Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre lavorava lo smantellamento del vecchio tracciato ferroviario in Peri e in spianata Borgo Peri. L'uomo stava tagliando uno dei pali di ferro che un tempo sorreggevano la linea elettrica della ferrovia, quando il palo, per cause ancora in via di accertamento, si è staccato dalla gru che lo sorreggeva ed è piombato addosso all'operaio colpendola una gamba. Per soccorrerlo, oltre al 118 e un'ambulanza, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Una volta stabilizzato dal personale sanitario, il ferito è stato trasferito in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sull'episodio sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro.